Samara e Giovanni, le parole chiave sono state nominate e da ora in poi faranno parte del vostro bagaglio nel nuovo viaggio che vi apprestate a compiere. Questo bellissimo cordoncino che custodirete genosamente vi sarà d'aiuto quando vi troverete in difficoltà, quando avrete necessità di compiere il primo passo per giarrirvi o quando dovrete estelare un imbalanzo. Ti affido questo anello che ti scelgo come mia sposa con tutto l'amore e rispetto che possiedo nella buona e nella cattiva sorte. Ti affido questo anello che ti scelgo come mio sposo con tutto l'amore e rispetto che possiedo nella buona e nella cattiva sorte. Sì che sarai venuta. Sì che sarai venuta. Grazie a tutti. Grazie a tutti